La scorsa settimana sui mercati finanziari si è conclusa con un po' di trambusto a causa di una notizia macro, cioè quello che è l'indice dei consumatori, la fiducia dei consumatori americani, l'indice del Michigan, perché è crollato un po' per la prima volta sotto alcuni livelli anche previsti e in maniera importante rispetto al mese di aprile. Questo ha causato un crollo anche di Bitcoin, lo abbiamo visto per esempio nella giornata proprio del venerdì, adesso vediamo se riesco a mettervi il grafico precisamente, quindi venerdì Bitcoin ha fatto questo mini fase ribassista con una chiusura a meno quasi 4%, meno 3,60%, mentre in pratica anche il resto dei mercati era andato un po' down. Sostanzialmente però questo indice dei consumatori del Michigan è importante perché ci fa comprendere se ad esempio l'economia sta andando verso una fase recessiva è un lead indicator, cioè un indicatore che ci dà un'informazione importante sulla fiducia dei consumatori e di conseguenza essendo l'economia americana basata quasi, cioè in maniera importante sul consumo interno, l'indice dei consumatori che crolla significa meno consumi e quindi una recessione imminente. C'è però anche da fare alcune riflessioni sul fatto che ad esempio le attese relative all'infrazione non sono state modificate, ma c'è un'infrazione persistente, anche se i rendimenti dei titoli di Stato americano non tanto hanno subito una modifica, la vediamo oggi. Quindi cerchiamo di leggere al di là di quelli che sono i numeri semplici, andiamo a fondo, andiamo in profondità. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare il Bitcoin Monday, quindi un grafico solo, volevo farvi vedere che è questo qui, cioè il grafico di Bitcoin sul dato settimanale, scusate ragazzi, perché volevo farvi vedere una serie di dati sulle medie mobili, sulla formazione di alcuni pattern di cui ho già parlato nella precedente settimana e anche questo grafico, il grafico del RSI smussato, in questo caso che ci porta ad una fase di uscita, fuoriuscita da un ipercomprato e poi l'analisi ciclica di medio-lungo periodo che riguarda proprio questi ultimi mesi. Importantissimo questo video, molto importante per chi ha una visione di medio periodo, non lunghissima ma neanche molto di breve e secondo me è molto importante per comprendere anche quello che potrebbe succedere proprio da qui alla fine del mese di maggio, parra anche metà di giugno. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, l'ho già detto, ma non ho la moneta qui con me ragazzi, ovviamente la potevo portare la prossima volta. A parte questo, ovviamente vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, soprattutto lasciatemi il mi piace per questi video così mi date una mano, ma nel video scorso mi avete proposto una serie di criptovalute da analizzare nei successivi video che faremo, ma la cosa che mi ha fatto sorridere più di tutti ragazzi è che mi avete proposto tutte cripto differenti, cioè ci vorranno 10 video per farle tutte, quindi la mia intenzione era mettere all'interno di un video quelle cripto che avessero ottenuto maggiori richieste, in realtà veramente, a parte alcune che ovviamente ne hanno ottenute tante, sono state tutte diverse, quindi c'è una sorta di ripartizione verso tutte le cripto di interesse anche da parte dei follower e della community italiana, ma ragazzi è la prima volta che vi capita una cosa del genere. Va bene, allora, analisi di quelli che sono i calendari economico per quanto riguarda questa settimana, importante andare a controllare alcune cose, intanto il tasso di infrazione che è previsto in pubblicazione il 15 di maggio prossimo alle ore 2.30, non mi ricordo se questo è GMT più 2, sì quindi è giusto per l'Italia, quindi 2 ore e 30, do di 14.30, le 2.30 e tra le altre cose è previsto in leggera fase ribassista, questo però potrebbe essere interessante da andare a valutare perché qualora il tasso di infrazione, intanto ribassista previsto di poco, non dovesse essere così preciso e quindi in pratica dovremmo avere in sostanza un tasso che un po' poi magari non rispetta questa fase ribassista, a quel punto potrebbe essere che i mercati vadano a scrollare un po', quindi a fare una fase ribassista. Allora, il tasso di infrazione secondo me nei prossimi mesi ritorna ad essere un po' l'argomento del giorno perché non era prevista un'inflazione persistente così tanto, questa cosa qui fino a marzo-maggio potevamo accettarla, da maggio in poi no, quindi il fatto che gli Stati Uniti ancora non sono riusciti a controllare l'inflazione come esempio sembra essere stato fatto in Europa e non averla riportata sotto i target del 3% è una cosa negativa e che potrebbe essere in questo caso non molto accettabile, insomma, ecco per i Stati Uniti. Sì, scusate ragazzi ogni tanto si blocca l'iPhone mentre fa la ripresa, e questo potrebbe anche causare un po' di nervosismo per i mercati, i mercati che però sono in fase di attesa anche delle elezioni americane, quindi difficilmente andranno a stroncare in questa fase, a meno di situazioni un po' volute, no? Da un certo punto di vista per creare un po' quel contrasto che porta un po' di pepe alle elezioni, quindi può essere che qualcosa sia voluta, ne parleremo. Alcune volte, ragazzi, è successa questa cosa pre-tornata elettorale americana verso agosto dello stesso anno, quindi se c'è un bias da questo punto di vista è di tipo negativo ed è verso agosto dell'anno delle elezioni, quindi tenetelo in considerazione qualora vi interessi anche quest'ambito un po' nella parte classica, diciamo nei mercati classici. Vi faccio vedere anche come il tasso atteso dei tassi di interesse per il FONC di giugno è rimasto assolutamente invariato, quindi non c'è un ribasso dei tassi, ma ancora una volta si riporta un eventuale possibile ribasso dei tassi, ma con una porcentuale molto bassa ancora, il 50-49%, alla FONC di settembre, mentre poi per la fine dell'anno sembrerebbe più accettabile un ribasso dei tassi, tant'è vero che quasi tutte le medie sono spostate, tutti i valori sono spostati verso un tasso più basso di quello attuale, che è questo qui, ma a giugno non c'è, diciamo, questa possibilità. Vi faccio vedere la questione legata al Michigan e a quello che è successo. Qui c'è stato un ribasso nella scorsa settimana di un valore di fiducia che è asceso da 77.2 a 67.4, è un ribasso consistente, non è una cosa leggera. Poi tra l'altro è in generale, insomma, anche riguarda un po' tutti gli altri valori che loro misurano. Allora, questo indicatore è sostanzialmente un indicatore che porta l'idea che ci possa essere una fase di recessione imminente. Allora, questa fase di recessione ci può stare anche verso la fine dell'anno 2024, che inizia e per tutto il 2025 si sviluppi un po', perché noi abbiamo avuto un rialzo consistente dei tassi di interesse in tutti gli stati occidentali, quantomeno, e non c'è stata neanche l'ombra di una recessione. Quindi abbiamo avuto neanche un soft landing, un super soft landing. Quindi è la prima volta che avviene una cosa del genere così forse impattante. Perciò alcuni mesi recessivi, ma tutto sommato, non sarebbero neanche così tanto negativi. Ovviamente una pausa, ecco, dalla crescita sarebbe anche voluta dalle banche centrali che stanno spingendo i tassi di interesse e mantenendoli alti anche per bloccare questa forza, altrimenti l'inflazione non viene ad essere controllata. Quindi, in sostanza, ragazzi, scusate, si blocca l'iPhone, è una ripresa di emergenza quella che sto facendo, ragazzi. Però in questa fase, ovviamente, non è negativa, ecco, secondo me, questa questione qui. Quindi, poi, insomma, c'era stato anche un outlook che era peggiorato per quanto riguarda anche l'inflazione che però io non ho visto, per esempio, in questo grafico, che secondo me è molto rilevante da un punto di vista di dati che sono poi quelli che ci interessano. Cioè il grafico dei rendimenti dei titoli di Stato americani decennali che ha toccato il suo massimo, questo è inversamente proporzionale alla questione del tasso di interesse e ovviamente all'inflazione. Cioè se i tassi iniziano a scendere, questo scende, se l'inflazione continua a salire, questo sale. Quindi diventa un problema, ecco, da questo punto di vista. È vero, c'è stato un rimbalzino, vi faccio vedere la giornata di venerdì, che è questa qui, ma parliamo del nulla, più 1%. In realtà, da un punto di vista di medio-lungo periodo per quanto riguarda il decennale americano, la struttura è appunto di aver fatto un massimo qui. Quindi un eventuale ribasso da qui dei rendimenti dei titoli di Stati decennali americani indica il tentativo di fuoriuscire da questo trend rialzista e quindi di riportarci a fasi differenti. Guardate qui quello che era successo dopo la questione dell'immissione di liquidità dopo la pandemia. No, qui, da qui poi si è sviluppata questa spirale rialzista. Ora, teoricamente, l'attesa sarebbe la discesa di questo rendimento decennale, almeno al di sotto del livello precedente di minimo, intorno al 3-8%, se non erro, per continuare poi una fase di ribasso nei prossimi anni e riportarsi intorno a valori, secondo me, più accettabili rispetto a quelli attuali, che sono realmente molto alti, anche per il debito pubblico enorme, gigantesco, stellare, degli Stati Uniti. Allora, come si sviluppa questa cosa con i mercati delle criptovalute? Soprattutto con Bitcoin. Niente, iPhone bloccato, ragazzi. Ok, ogni tanto provo a risbloccarlo, ma non so se è dura. Allora, come si sviluppa questa cosa, ragazzi, con i mercati delle cripto? Intanto dobbiamo vedere se effettivamente un'eventuale recessione può avere un impatto negativo su Bitcoin. Io non credo sia così, perché al di là di quelle che possono essere delle fiammate iniziali, secondo me, l'impatto recessivo su Bitcoin non ha molto senso. In termini fondamentali non ce l'ha per niente, perché Bitcoin non è collegato all'economia americana. Ce lo può avere solo in termini di rapporto con i mercati classici, cioè nel momento in cui Nasdaq e SP500 scenderanno per un'eventuale recessione, a quel punto Bitcoin potrebbe scendere per correlazione a questi indici. Ma al di là di questo non c'è nessun tipo di collegamento. In più, teoricamente, se volessimo dire niente ragazzi, si blocca, allora mando solo in view lo schermo. In più, tra le altre cose, insomma, se dovessimo ragionare e dire nel momento in cui c'è un livello di recessione imminente, c'è anche un'aspettativa di ribasso dei tassi di interesse. Se questa, aspettativa di ribasso dei tassi di interesse, ovviamente non può che far bene a Bitcoin, perché sarebbe un'immissione di liquidità. Quindi, da un certo punto di vista, la recessione, secondo me, avrà un impatto. Magari nel breve può essere negativo, ma nel medio periodo, secondo me, Bitcoin non risentirà di un'eventuale fase recessiva. Quindi, indicatore del Michigan, sì o no, la questione, diciamo, viene un po' o meno. Allora, vi faccio vedere quello che è il grafico settimanale di Bitcoin e facciamo un po' di ciclica. Queste sono due medie importantissime sul settimanale perché sono media 26 a 52 periodi. In pratica, la media 26 indica il ciclo semestrale di Bitcoin e la media 52 l'annuale di Bitcoin. Vi ricordate, tempo fa, quando vi avevo, diciamo, sviluppato l'idea che al superamento della media mobile a 52 periodi, questa questione qui, quindi marzo 2023, non era mai successo che Bitcoin non andasse a disegnare poi una struttura di bull run. Tutte le volte era successo, tutte le volte, neanche una esclusa. Solo in questo caso, e causa ovviamente della pandemia, c'era stata una discesa al di sotto della media 52 settimane. Ma in tutti gli altri casi della storia di Bitcoin, il superamento della media 52 settimane ha indicato l'inizio di una fase di bull run. Ecco perché io ero già da più di un anno che dico che siamo in bull run, siamo in bull run. Alla fine, sostanzialmente, anche il touch della media è stato fatto in questo punto, nel settembre del 2023, come era stato fatto precedentemente. Poi è vero, qui c'è questa struttura ribassista che però non sarebbe esistita in nessun modo se la pandemia non ci fosse stata. Quindi questa cosa qui, secondo me, è un'anomalia esogena del periodo che io non considero minimamente, perché secondo me qui, a livello di analisi del grafico, questa struttura sarebbe stata identica a questa e poi saliva. In pratica la stessa cosa che abbiamo visto qui. Ora, il mancato, diciamo, il breakout di questo livello, scusate, è consistente e tra le altre cose ancora i prezzi sono molto lontani da questa media, solo un eventuale break di questa media 52 settimane, secondo me potrebbe indicare la fine di una fase di bull run. Quindi siamo ben lungi da questa fase sui mercati delle criptovalute. Siamo in una fase di assestamento e di pulizia di quelli che sono gli indicatori classici, quindi dall'ipercomprato all'ipervenduto o, in questo caso, secondo me, a zona neutrale. Per la zona neutrale di questo indicatore che vi esorto, diciamo, a tenere in considerazione è un RSI modificato con una media smoothing sull'RSI, in pratica lo rende leggermente più ciclico. Il rientro all'interno di livelli più consoli, quindi al di sotto del livello dei 70, è, diciamo, una cosa che può essere considerata positiva. Vi faccio vedere anche, diciamo, quello che era successo nei precedenti cicli, non prendo riferimento a quello della pandemia. Allora, qui, quando siamo andati sui massimi, poi, a un certo punto, vedete, si rientrava in una zona di meno congestione, diciamo, una zona che possiamo definire non eccesso. Ecco, questa parte qui, in pratica. E poi si ritornava in eccesso. Questa struttura è il cammino di un asset che va verso la sua strada. In pratica, niente di anomalo in questa cosa qui, perché significherebbe che l'asset continua la sua strada. L'RSI non è un indicatore di ipercomprato e ipervenduto. Viene utilizzato in questo modo, ma è un indicatore che, in pratica, va a ragionare in termini di forza dell'asset sottostante, quindi non solo e unicamente di ipercomprato e ipervenduto. Si può utilizzare in quel modo, ma è più la forza del sottostante. Quindi nel momento in cui si va a delineare una certa forza, noi avremmo costanti ipercomprati dell'RSI. Questo è sostanzialmente. Quindi quello non è un'anomalia, è assolutamente normale. Qui però c'è da dire una cosa. Siamo stati in ipercomprato per un po' di tempo. Quindi il ritorno, per esempio, al di sotto di questo livello, e quindi l'allungamento di questa fase attuale di riflessione, con alti e bassi che magari possono capitare. Anzi, nel prossimo video ne parliamo, ragazzi, perché io nel prossimo video per questa settimana posso anche avere un'idea particolare della possibilità di Bitcoin. Anzi, facciamo così, vi indico in questo video il livello che dovete tenere a mente per questa settimana. Poi nel prossimo ne parliamo in maniera approfondita. Potrebbe anche sviluppare un trend leggermente positivo. Però il fatto è che a livello settimanale dovremmo scendere probabilmente su questi livelli fuori dall'ipercomprato. E questo sarebbe il vero segnale positivo. Qui vi metto un grafico con una tinteggiata e lo facciamo di un altro colore in maniera tale che questa linea venga ad indicare un po' la fuoriuscita classica che può avvenire dall'ipercomprato e dove teoricamente io considero una zona di neutrale dall'ipercomprato. Quindi questa fase qui, questa zona sotto i 65 secondo me sarebbe meglio intorno ai 60. Nulla cambierebbe. Da quel punto di vista avremmo anche la possibilità, con indicatori più normalizzati, di poter spingere a una nuova fase importante. C'è da dire che quindi anche queste medie devono salire, che ci stiamo avvicinando a una fase importante, cioè quella del touch della media 26, che dovrebbe corrispondere con la conclusione di una fase ciclica importante. Allora, cosa stiamo attendendo? Cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi a livello di medio periodo? Bitcoin ha concluso un ciclo annuale corto. Si definisce così perché è un movimento probabilmente appartenente a un ternario di un biannuale più lungo, quindi una struttura che io andrei a considerare come facente parte di circa un 900 giorni più o meno, e qui siamo in forma ternaria. Cioè non è più un annuale classico che faceva il down così per costruire la famosa M, bensì è un biannuale diviso a forma ternaria, che è un classico movimento a trepico, e ne fa tantissimi di questi ragazzi, ok? Ora, in pratica, se questa forma ternaria viene rispettata in maniera precisa rispetto ai cicli precedenti, teoricamente qui andremo in una fase di conclusione di un ciclo intorno ai 300-310 giorni. Ciò significa che fino a fine giugno, metà di luglio, non ci sarebbe la possibilità di fare nuovi massimi per Bitcoin, e che se anche dovessimo fare un nuovo hype, non riusciremo in pratica a breccare i massimi. Teoricamente, in pratica, potremmo stare intorno ai 67-68, ma difficilmente riusciremo ad andare oltre, e poi continueremo, diciamo, questa fase così di trading range laterale ribassista, dando il tempo e la possibilità anche a questa media A26 di avvicinarsi, e fare in modo che magari Bitcoin riesca a fare un down al di sotto di questa media. In quel caso, a livello ciclico, avremo praticamente tutti i dati confermati, in maniera veramente interessante. Ora, parliamo un po'. La questione così dipinta, secondo quelli che sono i dati tutti perfetti della ciclica, può essere considerata accettabile questa view? Possiamo prenderla in considerazione? Assolutamente sì, perché è così che si muove di solito un mercato quando fa questa forma di cicli. Però, c'è anche da dire che a volte i mercati finanziari non sono così precisi, non vanno così, diciamo, ad essere puntuali rispetto ai grafici, e quindi un po', insomma, di parapiglia io me lo aspetto in questa fase. Cioè, la semplicità di una view del genere è interessante, però è anche una view veramente molto pilotata, sembra quasi scritta, dovesse fare una cosa del genere, in pratica ci dà un invito ad un bancomat per entrare e fare gain, dire basta alla chiusura di quel ciclo. Quindi, secondo me, o modifica un po', mescola le carte precedentemente, quindi allunga questa fase, ad esempio una fase ribassista più lunga del previsto, oppure prova magari una fase di hype cercando di fare nuovi massimi addirittura, perché in realtà io non mi aspetto mai che i mercati seguano una linea così precisa. Quindi io vi ho detto la strada principale che dovrebbe essere quella, però mi sto sempre molto attento anche ad atteggiamenti diversi da parte del mercato. In particolar modo è possibile anche che questa fase ciclica venga sviluppata utilizzando un ciclo annuale normale e che in questo caso, in questo caso, noi potremmo essere ad una metà di questo ciclo annuale, con 238-240 giorni, quindi un semestrale classico che è già stato fatto, e in pratica, facciamo così, vi infaccio una figurazione differente, con un colore differente, in pratica è come se stessimo ragionando con un annuale normale da circa 440 giorni e che qui abbiamo chiuso il semestrale, e quindi in pratica qui avremmo possibilità di fare una roba del genere per chiuderlo poi in questo punto il semestrale. Ora, io personalmente valuto l'ipotesi del ciclo ternario ancora valida è quella più probabile, cioè questa qui che vi dicevo con una conclusione intorno a giugno-luio di questi movimenti ribassisti, però la view che vi ho detto, quella legata alla possibilità che qui ci sia stata una close di un semestrale, la sto tenendo in considerazione. Tant'è vero che nella scorsa settimana, ragazzi, ho fatto delle operazioni segnalate tutte in Academy di ingresso anche di una parte hold, che tra l'altro è andata in stop e adesso è rientrata nuovamente, perché sto tentando degli ingressi un po' più da trader, meno da investitore, perché mi servono dei prezzi molto bassi di ingresso, molto non alti, ragazzi, per evitarmi i rischi di questo atteggiamento. Ma voglio essere comunque long in questa fase se il mercato dovesse fare determinate atteggiamenti. Primo fra tutti la rottura del livello di resistenza a 65.000 dollari, che vi faccio vedere su questo grafico, in quel caso indicherebbe una fase che secondo me dovrebbe essere presa in considerazione, 65.600 circa, quindi il breakout di una roba del genere sancirebbe, secondo me, un'accelerazione rialzista intorno ai 68.000 dollari. Ne parliamo meglio nel prossimo video, ma tenete a mente questo livello di pricing intorno ai 64.500, 65.500, quindi quella è l'area di pricing, perché secondo me è un'area di pricing estremamente rilevante. Io, al di là di tutto, sto facendo il trader in questa fase, quindi un po' più macchinoso, un po' più lavorato, ma questa particolare fase, questo momento, ci sta nel fare questa cosa, perché dovesse essere iniziato un semestrale e non ce ne siamo accorti perché il mercato può fare questi giochini, e non è la prima volta che io li ho visti, è una questione di esperienze, ragazzi, è meglio essere dalla parte del mercato in questo momento. preferisco uno stop, come già l'ho preso, diciamo, nella scorsa settimana, ma è una scelta personale. Resta la struttura ciclica che vi dicevo, come la principale, quella di giugno-luio, che secondo me è la versione più naturale di questa struttura ciclica, ma teniamo in considerazione anche quello che vi ho detto, è una cosa che probabilmente non avete sentito da nessuna parte, ma volevo dirvela perché c'è da riflettere su questo, è una cosa che vi sto anticipando, anche in Academy già sanno le operazioni, probabilmente le hanno già seguite, però non ne ho parlato apertamente di questa view, che andrò ovviamente ad approfondire in maniera molto più consistente nella community premium. Per oggi è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, dove andremo ad analizzare questa fase, se supera i 64-65, se non lo fa nulla è cambiato, tutto quello che ci siamo detti, appunto, continua questa fase di bassista, ma c'è un ciclo mensile in atto su Bitcoin certamente, dobbiamo prenderlo in considerazione, ne parliamo nel prossimo video. Ciao a tutti!